Benvenuti o bentornati sul mio canale per una nuova puntata di Parliamo di Horror. Oggi affronterò Jason X, film del 2001 diretto da James Isaac. Se mi avete seguito nel corso delle settimane saprete che venerdì 13 Incubo a Manhattan, l'ottavolo capitolo del franchise, non andò bene al box office, tant'è che la Paramount fu costretta a vendere i diritti alla New Line Cinema. Ma nemmeno Jason va all'inferno del 1993, riuscì a sfondare al botteghino. Tant'è che il celebre personaggio non si è visto su grande schermo fino al 2001 con questa rivisitazione della saga. Anche perché, pensate un po', questa volta la storia non si svolge a Crystal Lake, non ci sono dei ragazzini in campeggio da uccidere, bensì ci troviamo nel 2455, siamo in un futuro prossimo, la Terra non esiste più, bensì esiste Terra 2, e Jason Voorhis, tenuto prigioniero in questa capsula criogenica ibernato, si risveglierà pronto a portare avanti una mattanza su questa nave spaziale. Andiamo con ordine. Dopo l'epilogo di Jason va all'inferno, che forse era l'unica cosa interessante di quel film orribile, il pubblico si poteva aspettare il crossover fra Freddy e lo stesso Jason, visto che ricorderete che il braccio di Freddy artigliato trascinava sottoterra la maschera di Jason. Per vedere questo scontro, il pubblico avrebbe dovuto attendere fino al 2003, quando Ronny Yu avrebbe diretto Freddy vs. Jason, di cui parleremo la prossima settimana. Nel frattempo, in casa Kruger abbiamo visto Nightmare, nuovo incubo, capolavoro di Wes Craven, di cui ho già parlato su questo canale nella retrospettiva dedicata a Nightmare proprio. In casa Voorhis abbiamo visto Jason X di James Isaac. James Isaac è un famoso, perlomeno è stato, visto che purtroppo è morto, un famoso effettista. Ha lavorato con David Cronenberg, La Mosca, Il Pasto Nudo, Existence, ma ha lavorato anche per i Gremlins, per Il Ritorno dello Jedi. Tra l'altro in questo film compare in un cameo David Cronenberg. nei primi dieci minuti della pellicola, nei panni di un dottore. Cosa si può dire? Si può dire che dal 1993 al 2001 Jason non si era fatto più vivo. Esce questo film in una calda estate, al box office va malissimo, quindi la New Line Cinema ci ha puntato due volte e due volte. Non è riuscita a mettersi un po' di soldi in tasca. Realizzato con un budget di 11 milioni è arrivato a guadagnarne circa 17. Quindi floppone incredibile. Ha ripreso le spese utilizzate, ma per il resto niente di che, se pensiamo alle cifre guadagnate dai capitoli più iconici della saga. Sicuramente è un film difettoso, sicuramente è un film problematico, ma al contempo, rivedendolo, io non me lo ricordavo, avevo in mente solo il ricordo di un Paolo che lo bocciò in maniera critica quando lo vide da bambino. All'ennesima revisione devo dire che perlomeno ho notato quanto James Isaac abbia comunque tentato di fare qualcosa di diverso. Poi, per alcuni può aver fatto qualcosa di interessante, per altri può aver fatto una ciofeca inenarrabile. Io i difetti li ho notati, però già l'idea di un film che si svolge nel 2000, scusatemi, 455, l'idea di un Jason Wurie sibernato che si risveglia e anche questa critica di base all'uomo senza scrupoli che nonostante scopra che questo sia un killer decide di tenerlo in vita per poterlo vendere e quindi guadagnarci. C'è un minimo di critica sociale sotto. Si capisce perché questo regista abbia anche un buon rapporto con Cronenberg. Ovviamente i film di James Isaac e quelli di Cronenberg non sono minimamente avvicinabili o paragonabili, però proprio come il maestro Cronenberg si vuole inserire un po' di critica sociale. Il film è divertente. Il film non annoia, seppur io una cosa non la capisco. Perché tutti criticano aspramente Incubo a Manhattan dove Jason uccide tutti su una nave da crociera e qua che uccide tutti in una nave spaziale va bene. Cioè non è un po' la stessa cosa, cambiano solo i luoghi. Poi uno si svolge nel passato, uno si svolge nel futuro. Però tutto sommato a me piace ancora di più Incubo a Manhattan perché comunque oltre ad una buona regia c'era anche un finale tutto ambientato nella Grande Mela che riusciva sempre anche all'ultima revisione di qualche settimana fa riusciva a divertirmi, riusciva a incutermi anche quel minimo di timore e qua invece è anche un po' troppo tutto ripetitivo. Se dovessimo parlare del difetto più evidente quando si presenta lo potremmo ricondurre all'effetto visivo che più volte ritorna in maniera anche un po' da pugno in un occhio perché fino a che si tratta di effetti speciali prostetici quindi artigianali di James Isaac, nulla da dire, lo ripeto, ha contribuito a migliorare grazie ai suoi fantastici effetti capolavori della storia del cinema. In questo caso fino a che c'è l'effetto artigianale, nulla da dire, quando ci spostiamo sull'effetto digitale, quando ci sono questi qui sulla nave spaziale che si allenano con la realtà virtuale, ci sono questi mostri alieni, ho detto porca miseria, poi non me l'aspettavo, arriva ad un certo punto quell'alieno, io non rivedevo il film da quando ero bambino, ho detto cos'è. Però per il resto vedere Jason che si risveglia, prende per la testa la ragazza, la congela e poi la faccia congelata, gliela spacca sul mobiletto, lì dura e questa si spacca in mille pezzi, ho detto va bene, stiamo partendo col piede giusto. Poi non tutto il film riesce a presentare delle scene iconiche come quella, però già l'epilogo con un Jason simil terminator che viene ricostruito dalla nanotecnologia e che quindi con questo design rinnovato della maschera, veramente tutta di metallo, inizia ad uccidere a destra e a manca, mi fa dire ok, qualcosa di interessante c'è, la regia non è male. Certo, nel 2001 ovviamente era già uscita la trilogia di Scream che si mangia Jason X a colazione, a pranzo e a cena, cioè mettiamo a paragone lo slasher che ha Wes Craven fatto rivivere e questo Jason X, Jason X ne uscirebbe distrutto con tutte le scarpe, però nel frattempo, visto che gli ultimi capitoli di venerdì 13, cioè soprattutto dopo il quarto, non avevano brillato così tanto, questo Jason X almeno tenta, tenta come incubo a Manhattan, di fare qualcosa di diverso. E' interessante pensare ad un Jason Wuris che inizialmente si dice sia stato torturato nel peggiore dei modi, che gli abbiano dato fuoco, che l'abbiano trafitto con qualsiasi cosa, che l'abbiano, veramente gli hanno fatto di tutto ma non è mai morto. Quindi è lì appiccicato ad un gancio e tutti lo stanno studiando, poi ad un certo punto anche Cronenberg farà una brutta fine, lui si risveglia e col suo macete, pupum pupum pupum, fino a che una ragazza riuscirà a congelarlo, solo che verrà trovato nel 2455 da questo gruppo di ricercatori, che veramente, anche se vanno incontro a dei problemi fisici, riescono a ricrearsi nel modo più semplice possibile, uno perde un braccio per sbaglio perché il macete di Jason glielo taglia, e nel giro di un attimo con la nanotecnologia, pupum, ci sono gli androidi, quindi persone senzienti, ma robot, che cercano anche di farsi un seno simile agli umani, c'è questa ragazza che era rimasta congelata fuori dalla teca assieme a Jason, che si risveglia e dice mica l'avete risvegliato, ma in realtà no, e poi vanno di là, trovano la teca vuota, lui che ha ucciso tutto, che ha ucciso tutti, e quindi ci sarà questo nascondino, ci sarà questa caccia al killer nella navicella, con, e qui è la cosa più interessante, il dottore viscido, che nonostante Jason uccida e sia un serial killer, decide proprio di salvarlo, perché prima di tutto vengono i soldi, quindi c'è un po' di critica alla società, sicuramente non è la solita pellicola coppia e incolla, il finale con l'altro tizio protagonista che lo cattura nello spazio, i due alla velocità della luce cadono su Terra 2, perché la terra nostra è inabitabile, e è geniale il fatto che finiscano nel lago, dove due ragazzi si stavano sbaciucchiando sulla riva di esso, vedono questa cosa che cade, cosa sarà, e intanto sott'acqua la maschera, è un film un po' come Nightmare Nuovo Incubo, che è al di là della saga principale, perché comunque poi ci sarà Freddy vs. Jason, che si ambienta prima, dovremmo considerare Jason X come un film che si colloca centinaia di anni dopo rispetto a Freddy vs. Jason, quindi lo si potrebbe anche vedere senza conoscere nulla della saga, lo si potrebbe vedere giustamente così per divertirci, cosa devo dire? Il box office è stato un fiasco totale, capisco le innumerevoli critiche negative, del resto questa saga è sempre stata stroncata, io qua se volessi essere veramente critico, dovrei soffermarmi sugli effetti digitali tremendi, veramente tremendi, però si cerca di fare di necessità virtù, gli effetti speciali invece un po' convincono, quelli prostetici, è un venerdì 13 di fantascienza, la fantascienza non è uno dei miei generi preferiti, anzi spesso mi respinge, però ammetto che la durata mi sia anche scorsa bene, a volte con film di un'ora e venti della saga, guardavo l'orologo mille volte perché non ne potevo più, nei panni di Jason c'è sempre Kane Hodder, fantastico, bravissimo, veramente di una possanza incredibile, quindi questo è il mio parere su un film dove torna anche Harry Manfredini alle musiche insieme a Ethan Wiley, fatemi sapere la vostra, perché nel caso sarei curioso di capire se come me l'avete minimamente apprezzato, se invece anche rivedendolo lo detestate, oppure se l'aveste visto al cinema, a quei tempi, nel 2001, quando io, pensate un po', avevo sei anni, sei anni e già conoscevo Scream, mi sarei avvicinato molto più tardi a Jason X, quindi pensavo di bocciarlo un'altra volta, invece alla fine una sufficienza gliela do, però è un filmetto proprio, non vi aspettate niente di che, se siete amanti dello slasher può divertirvi, non vi aspettate spaventi, non vi aspettate un qualcosa che possa cambiare la storia dell'horror, però magari la vostra serata sì. Alla produzione c'è proprio anche Sean Cunningham, l'unico e originale ideatore, creatore, regista del capitolo principale, e quindi ragazzi, questo è il mio parere al riguardo, su un film che sicuramente potrebbe essere amato da chi ama, insieme all'horror, la fantascienza, però se pensiamo a quello che usciva a quei tempi da Matrix, se pensiamo a quello che c'era già stato tipo Alien, Jason X è proprio, non lo so, un escrimento di Mosca in confronto. Quindi ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con Freddy vs. Jason, perché finalmente siamo arrivati a questo crossover diretto da Ronny Yu, non perdetevi la puntata, non perdetevi quelle precedenti, prima di chiudere vi ricordo di abbonarvi al canale. Se decidete di abbonarvi, ricevereste in cambio contenuti extra, oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto, noi ci vediamo la prossima settimana, e che dire, vi attendo qua sotto nella sezione commenti, ricordandovi che nelle info trovereste anche i link per seguirmi sulle mie pagine social. Ciao ciao!